Sorpreso a spacciare due dosi di eroina, i carabinieri della Compagnia dell'Aquila, coordinati dal capitano Francesco Nacca, lo arrestano. Responsabile un uomo di 49 anni, originario di Roma ma residente all'Aquila ormai da diversi anni, già noto alle forze dell'ordine per reati riguardanti le sostanze stupefacenti. Già da diversi giorni i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile lo tenevano d'occhio, in realtà la sua presenza infatti era stata segnalata dagli avventori di un locale pubblico, tra Bazzano e Poggio Picenzi ai militari. Dopo la segnalazione i carabinieri lo hanno pedinato e controllato per giorni, fino a ieri quando è stato sorpreso nella sua vettura, accanto ad un altro automobile con un uomo a bordo, intento a scambiarsi un involucro con del denaro prima di allontanarsi in fretta e furia. Alcuni carabinieri hanno fermato subito il cliente, che si era partato intanto in una piazzola di sosta per consumare subito lo stupefacente appena comperato, mentre gli altri carabinieri hanno fermato lo spacciatore e successivamente hanno perquisito anche la sua abitazione. Nel totale i carabinieri gli hanno trovato un bilancino di precisione e 7 grammi di eroina ed è stato posto ai domiciliari. Questa attività rientra nell'ambito dei servizi più ampi svolti dai carabinieri dell'Aquila per il contrasto ai reati afferenti di stupefacenti, che come ormai da qualche anno a questa parte vedono sempre più tornare ad incrementarsi i consumi di eroina, il cui uso era molto maggiore negli anni 70-80.